Come capire quando una persona è maligna? I 10 segnali hanno caratteristiche che non possono mascherare. In questo video ti spiego appunto come capire quando una persona è maligna. Prima però iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video, seguimi su Instagram, su TikTok e ti ricordo che sul canale appunto ti puoi abbonare, basta che vieni alla home page, tu stai abbonati vicino, tu stai iscriviti, trovi diverse possibilità di abbonamento, tra cui l'abbonamento live per partecipare alle live, l'abbonamento base con lezioni mirate, l'abbonamento top con lezioni mirate a videoregistrazione e seminario del vivo e l'abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. Ma veniamo al tema. Come capire che una persona è maligna? I 10 segnali hanno caratteristiche che non possono mascherare. Allora, le persone maligne quali sono? Sono persone negative. Possono essere sia uomini che donne. Sono persone estremamente negative, pericolose, che possono generare grandi problemi. Le persone maligne sono persone false, sono persone che altro che scheriti nell'armadio. Negli armadi hanno come dire un ossario e tutto quello che tu scopri su queste persone è soltanto la punta dell'iceberg. Perché magari dicono delle cose, no? Ma tieni presente che è sempre la punta dell'iceberg. Per stare bene bisogna sempre evitare ciò che fa stare male. Bisogna circondarsi di persone benigne, di persone positive e allontanare quelle negative. Non c'è altra soluzione. L'errore che si fa, soprattutto nelle relazioni sentimentali effettive, è dire io lo cambierò, il mio amore lo cambierà. No, purtroppo ci sono persone che non puoi cambiare. Devi solo allontanarle dalla tua vita. Questo è l'unica modalità, è l'unico sistema. Non ci sono altre possibilità. Come riconoscerle? Beh, diciamo che sono persone che hanno un'energia negativa intanto e influenza il nostro stato. Ti generano tensioni, tensioni emotive, ma sempre tensioni negative. Quindi hanno però delle caratteristiche che non possono mascherare. Hanno tante facce. Sembrano quasi schizofrenici. Perché magari, per dire, oggi ti sono contenti così e poi dopo ti bloccano su WhatsApp senza nessun motivo. Fanno delle cose estremamente negative. Si comportano in un modo che non ha veramente nessun senso. Sanno adattare, diciamo, un atteggiamento diverso con ogni persona. Purtroppo sono camaleonti che ti fanno sentire anche unico, ma in realtà sono persone estremamente negative. Pensano a trarre qualche profitto dal tipo di relazione con te. E questo è il concetto. Non lo fanno né per amore, né per, diciamo, per affetto, per niente. Simulano, sanno simulare, spariscono, riescono a fare buon viso e cattivo gioco. Non si fanno scrupoli. Questa è un'altra cosa fondamentale. Altro punto, vogliono tenere tutto sotto controllo. Se i piani non vanno come loro vogliono, diventano cattivi, ricattatori, malevoli, possessivi, ma si fanno i cazzi loro, poi. Sia uomini che donne hanno tantissime relazioni in parallela, ad esempio. Credono che la loro opinione sia sempre quella giusta. Terzo punto, in ogni cosa che fanno vanno sempre alla ricerca di un profitto. Cioè non fanno nulla per nulla. Apparentemente sì, ti danno qualcosa, certo, apparentemente, ma in realtà vogliono soltanto toglierli. Nessuna cosa viene fatta in modo disinteressato, non lasciano nulla al caso, ma tutto è sempre programmato. Nei minimi dettagli sembra una cosa strana, ma questi programmano. Hanno, altro punto, hanno una capacità di manipolare gli altri. Hanno una capacità di manipolare gli altri e raggirano le persone, simulano, sono subdoli. Ad esempio, se sono donne nella sessualità, si fanno vedere come voraci, intrecciano, ad esempio, le donne, tante relazioni sessuali. E poi dopo però diventano ricattatori, fondamentalmente, no? Diventano manipolative. Anzi, alcune, questo purtroppo, dobbiamo dirlo qua, nel caso delle donne, magari vanno proprio a mettersi con uomini impegnati poi per far saltare la relazione. Perché vanno a parlare con magari la moglie del malcapitato. Se sono uomini vanno alla ricerca di qualche cosa, qualche beneficio, qualcosa, ma non fanno mai nulla per amore. Il quinto punto sono, come dire, dei truffatori, delle truffatrici, imbroglioni, egoisti, egocentrici, manipolano le tue emozioni per raggiungere i loro obiettivi. Si fanno, diciamo, fanno carico dello stimolare. Talvolta si fingono innamorati, talvolta poi spariscono. Diciamo, e tu puoi diventare una pedina del loro sporco gioco, perché riescono sempre a girare le cose come vogliono loro, senza darlo a vedere platealmente. Hanno questa capacità. Sesto punto sono bugiardi. Bugiardi seriali. Diciamo così che la bugia è il loro leitmotiv. Talvolta lo fanno per piacere, proprio per, come dire, proprio per un'altra cosa fondamentale, proprio per il dover mentire. Altro punto, omettono spesso di dirti delle informazioni. Magari te le dicono parzialmente, ma nascondono cose che dovrebbero essere dette. Prendono scuse, riportano il discorso dove vogliono loro. Sono capaci di rigirare la frittata in tutti i modi. Ti danno delle colpe e vanno avanti. La manipolazione, diciamo, è la loro arte. Altro punto, non dicono mai le cose come stanno. Sarebbe poi l'ottavo punto. Hanno una capacità di alterare la realtà che è favolosa. Sminuiscono e costruiscono storie. Inventano storie e realizzano tutte queste cose in modo naturale e spontaneo. Nono punto, negano. Negano i fatti anche se sono ovvi. E anzi, cercano di colpevolizzarti. Cercano di farti vivere in qualche modo sensi di colpa. Anche se una persona non fa nulla, cercano in qualche modo di farti vivere sensi di colpa. Pur se voi avete una visione chiara di come stanno le cose, loro cercano di cambiare la versione dei fatti. Con false interpretazioni. Vivono in un mondo proprio che non può chegociare con il vostro e causare attriti nelle loro vite. Questa è un'altra caratteristica che hanno questa tipologia di persone. Evitale veramente perché sono distruttive. Non chiedono mai scusa. Non chiedono mai scusa e questo è un'altra cosa. Perché non ammettono mai gli errori. O se lo ammettono dicono che hanno sbagliato ma a causa tua. Perché tu hai fatto quello. Quindi hanno veramente una capacità manipolativa della realtà che però fa leva sui tuoi sentimenti. Quindi quando incontri persone di questo genere e una tua parte se ne rende conto, non avere timore, scappa, non prenderle più in considerazione. Perché se tu gli dai in considerazione e veramente entri dentro le sabbie mobili e ti porteranno sicuramente negatività, forte negatività nella tua vita. Devi veramente imparare a eliminarle completamente. Ci può anche stare male se uno è coinvolto ma poi ne avrai benefici immensi. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tremasco su TikTok. Iscriviti al canale, ti mando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi, abbonati anche, basta che vai nella home page, tastino abbonati, vicino a tastino iscriviti. Se non lo vedi con l'app del cellulare vai con il computer. E ti ricordo che sul canale ci sono quattro livelli di abbonamento. Abbonamento live per partecipare alle live. Abbonamento base con lezioni mirate. Abbonamento top con lezioni mirate e video registrazioni seminar del vivo. Abbonamento Massa Consulting con in più una consulenza telefonica. Ciao a tutti.